Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore di Salerno in tutta la provincia in occasione del periodo delle festività di fine ed inizio anno, sono stati emessi 5 divieti di ritorno nel comune di Salerno ed in alcuni comuni della provincia per la durata di 3 anni. I provvedimenti sono scattati a carico di soggetti con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e vendita di prodotti contraffatti. Inoltre sono stati emessi anche 3 provvedimenti di avviso orale a carico di altrettanti pregiudicati dediti ad attività illecite, più volte sottoposti a provvedimenti restrittivi, in particolare per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.